Ma a dire la verità non avevo moltissime idee per questo video, ci ho pensato e ripensato a lungo ma non sono riuscito a trovare delle idee che mi convincessero al 100%, ma poi mi è arrivata l'illuminazione. Se vi ricordate e se mi seguite da un pochino di tempo saprete come fino a 3 o 4 mesi fa la programmazione del canale non era come quella attuale, anzi vi era un video in più, infatti la programmazione settimanale era costituita da 3 video che uscivano il martedì, il giovedì e la domenica. E se vi ricordate anche bene, il martedì era il giorno che prima era dedicato ai vlog e poi alle storielle divertenti, ma una volta fatto il cambio di programmazione e spostando i video a mercoledì e alla domenica questa rubrica si è andata a perdere nei meandri oscuri del canale e non è uscito più nessun video di questo genere. Questo per il semplice motivo che ho voluto dare la precedenza ai temi trattati nel canale, ovvero i manga, gli anime e i videogiochi e di conseguenza non ho più tolato il tempo per parlare di cose divertenti che mi sono accadute nel corso della mia vita ma oggi potrebbe essere l'occasione giusta per riprendere in mano questa piccola rubrica e magari farci un video una volta ogni tanto. Di conseguenza già molti si staranno chiedendo il perché di questo titolo e fidatevi che è una storia abbastanza attuale che sono riuscito a sbrogliare e a risolvere circa tre giorni fa. Ma detto questo, prima di poter raccontare la storia dobbiamo andare alla nostra fantastica sigla. Niente gameplay di sottofondo, niente code, niente jump force o nient'altro gioco che possa distrarvi dalla mia bellissima presenza bellissima si fa per dire così che possiate concentrarvi sulla storia che vi andrò a raccontare perché fidatevi è qualcosa di assurdo. Ma già molti si staranno chiedendo cosa c'entra a Donald Trump? Fidatevi rimanete in lina perché tra 2-3 minuti lo scoprirete. Allora, circa due settimane fa stavo usando Whatsapp e stavo parlando con Marianna che per chi non lo sapesse è la mia ragazza e mi succede una cosa abbastanza strana mentre stavo scrivendo un messaggio di testo una pagina di Google Chrome mi si apre con una pubblicità e penso, sarà un caso, avrò lasciato magari qualche scheda di Chrome aperta e mi si sarà aperto un pop-up perché essendo rimasta lì ha rotto le bale talmente tanto all'applicazione che ha forzato l'apertura di una pagina. La chiudo e non ci penso. Circa un paio di ore dopo, mentre stavo ancora parlando utilizzando l'applicazione chiamata Whatsapp mi succede la stessa cosa e lì incomincio a farmi due domande. Il problema persiste per altri 3 o 4 giorni finché non sbotto e decido di scaricare un antivirus diverso da quello che già avevo sul telefono ovvero AVG. AVG ce l'avevo già da parecchi anni aveva sempre fatto il suo lavoro ma non era riuscito a risolvermi questo problema allora cercando sulla rete avevo trovato un altro antivirus consigliato da moltissime persone chiamato Malwarebytes. Lo scarico? Faccio la versione Pro che dura gratuitamente un mese figurati se mi vado a pagare un antivirus per cellulare sono povero in canna in questo periodo faccio la scansione, avvio la risoluzione dei problemi abilito tutte le cose che l'applicazione vuole farmi abilitare e il telefono mi trova un virus con mia grande sorpresa dato che AVG non mi segnalava problemi. Comunque il virus è stato eliminato da Malwarebytes e io sono abbastanza tranquillo sperando di aver risolto appunto questo problema. Cosa importante? Tenete in considerazione che questa cosa di Malwarebytes l'avevo fatta a mezzanotte e mezza del giorno prima e dopo aver effettuato la scansione con tratto di pulizia sono andato a letto. Ovviamente cosa succede il giorno dopo quando mi sveglio e prendo mano Whatsapp? una scheda pop-up mi si apre e allora comincio a perdere la speranza perché credo che non ci sia risoluzione a questo problema e quindi niente il problema era ancora lì nonostante Malwarebytes l'eliminazione di un possibile virus dal mio cellulare il problema era rimasto alla radice il mio telefono era ancora infettato da questo fastidioso virus di conseguenza decido di disinstallare Google Chrome dal mio Samsung S8 ed installare un altro browser dotato di adblock ma il problema continua a rimanere le schede continuano ad aprirsi nonostante il cambio di browser di conseguenza capisco che il problema non è legato tanto al browser quanto all'applicazione Whatsapp ma non saprei come risolvere il problema appurato il fatto che quindi il problema fosse legato all'applicazione disinstallo e restallo a Whatsapp ma niente il problema rimane tale due o tre giorni dopo ero su Discord con i miei amici con cui esco magari il venerdì e il sabato e vado in giro ad obrecarmi, fare festa no non è vero, ormai siamo vecchi non facciamo più queste cose e sento questo mio amico tramite appunto Discord e gli chiedo, una volta spiegato il problema come potrei risolverlo quest'ultimo mi dice provo a guardare nelle applicazioni se c'è qualcosa di strano installato controllo ma niente la soluzione che vi dà è quella di riformattare il telefono alle impostazioni di fabbrica facendo prima appunto una copia di tutti i miei dati su Google Drive o su qualsiasi altra applicazione che potesse permettermi poi di riscaricare tutte le mie cose in modo tale da poter ovviare al problema intanto ne approfitto per salutare questo mio amico ciao Nico, sono riuscito a risolvere il problema nello stesso periodo avevo voglia di installare un cleaner di pulizia che mi facesse guadagnare dello spazio sul mio telefono e installo un'applicazione di cui adesso non mi ricordo il nome comunque ho seguito il consiglio degli utenti trovati online e ho installato questo cleaner che devo dire è molto buono lo installo, faccio pulizia guadagno quei 2 giga di memoria che non fanno mai male sul mio telefono e vado a letto la mattina dopo succede qualcosa di assurdo nella tendina delle notifiche mi trovo il cleaner che mi dice fai spazio delle applicazioni che non usi più allora apro questa applicazione e incomincio a scorrere verso le applicazioni usate di recente e vedo una cosa abbastanza strana questa applicazione che io avevo installato due anni e mezzo prima sul mio telefono quando appunto lo avevo comprato è stata forse una delle prime applicazioni che io abbia mai scaricato sul mio telefono e la guardo e penso ma questa applicazione non la apro da due anni e mezzo com'è possibile che l'ultimo utilizzo sia datato quest'oggi ma soprattutto a 20 minuti prima momento in cui io magari mi sono svegliato e appena mi sono svegliato ho fatto l'accesso su whatsapp per la prima volta al giorno mi si è aperto il pop up e quindi ho cominciato a sentire quel leggero odorino di merda che pervadeva l'aria allora dopo aver fatto 2 più 2 sapendo che questa applicazione in qualche modo era collegata con whatsapp l'ho disinstallata e il problema ovviamente è stato rimosso e volete sapere qual era il nome dell'applicazione? sticker di donald trump io non so cosa sto facendo della mia vita installare gli sticker di donald trump ma che cazzo? ciao ragazzi spero che questo video storia vi sia piaciuto spero che vi possa aver strappato una risata in questo periodo in cui siamo chiusi in casa e magari molte volte ci annoiamo detto questo le storiere divertenti non torneranno in pianta stabile sul canale perché come ho già detto prima voglio dare la precedenza agli argomenti trattati sul canale Maltality di conseguenza potrebbero diventare qualcosa che vedrete raramente soprattutto quando magari non ho idee ma non temete per i video delle prossime due settimane sono già a posto detto questo però se questa storia vi ha fatto ridere come sempre vi invito a mettere un bel mi piace iscrivervi al canale fare quello che volete i social, non i social attivate la campanellina non attivate la campanellina detto questo noi ci vediamo quindi in un prossimo video ciao ragazzi